Anche quest'anno, per la quinta volta, quindi siamo al quinto anno, Lento Olivieri propone questo appuntamento delle note oliveriane. Infatti, come giustamente si ricordava, questo è un appuntamento che va a cercare di indagare quello che è stato il percorso musicale, la storia musicale, nei secoli più antichi, quindi prima di Rossini, ma che comunque ha contribuito a questa storia, a rendere poi il territorio pesarese, anche della provincia di Pesaro Urbino, particolarmente ricco e fecondo anche dal punto di vista musicale. L'eccezione, perché comunque ci sono sempre le eccezioni e ci piace anche sottolinearle, è che poi uno di questi appuntamenti delle note oliveriane invece arriva ai giorni nostri, ai giorni contemporanei, e ricordando ogni anno un cantautore contemporaneo, attuale e diverso. Quindi quest'anno sarà la volta di Renato Carosoni, in passato avevamo affrontato De Andrea, avevamo affrontato Guccini e altri personaggi. Le date sono appunto il 14, il 21 e il 29 luglio e iniziamo il 14 con la riscoperta di una figura di un impresario teatrale, Eustacchio Bambini, di cui ci racconterà Maria Chiara Mazzi. Maria Chiara appunto fa sempre questo studio, questa ricerca sulle fonti, sui documenti, in parte conservati presso la Biblioteca Oliveriana, ma non solo, presso la Biblioteca Oliveriana e attraverso questi documenti riesce a ricostruire e a raccontare queste storie interessantissime, anche divertenti e in gran parte sconosciute. Il secondo appuntamento sarà il 21 luglio, anche in questo caso la riscoperta della storia musicale del 600 della provincia di Pesaro Urbino, con un accenno particolare anche alla collezione musicale della famiglia Albani conservata a Villa Imperiale. Si chiude il 29 luglio, appunto come accennavo poco fa, con la storia di Renato Carosoni raccontata da Enzo Vecchiarelli e dai suoi collaboratori. Grazie. Grazie.